Musica Pienone in spiaggia a code sulla Bifernina, costa presa d'assalto nella primavera domenica dell'estate e disagi per gli automobilisti provocati dal semaforo tra Ripa Bottoni e Casa Calenda. Roberti chiede l'intervento della stradale. Festa della regione, l'incontro al Savoia, cominciate le celebrazioni per i 60 anni dell'autonomia regionale. Siamo consapevoli del lavoro che c'è ancora da fare, ha detto Quintino Pallante, ma orgoglio per quanto fatto finora. Domani nel campo sportivo l'addio a Marco Di Stasi alle 10 a Cerce Maggiore, funerali del ragazzo vittima di un incidente. Ieri mattina lo studente dell'Isis Marconi, ricordato dagli amici, lutto cittadino e niente musica, fino a domani sera nell'area Pianelle. Achille Lauro infiamma l'arena Termoli Spettacolo all'Arena del Mare, con il concerto del cantante romano, due ore di musica con i fan in deliri. Buona domenica, ben ritrovati per l'edizione delle 14 del nostro telegiornale. Spiagge affollate sulla costa molisana nella primavera domenica dell'estate, ma non sono mancati però i disagi alla circolazione sulla Bifernina. Automobilisti diretti al mare, inferociti per le lunghe, code al semaforo tra Ripa Bottoni e Casa Calenda. Sentiamo Andrea Nasillo. Temperature africane oggi sulla costa, l'unico ristoro in acqua. L'ultima domenica di giugno, caratterizzata da caldo e relax in spiaggia. Tanti turisti affollata alla costa molisana tra l'entusiasmo dei bambini e i momenti di spensieratezza dei più grandi. L'estate nei fatti è partita. Refrigerio in acqua, passeggiate sulla battigia per questa prima vera domenica d'estate. È partita ufficialmente la stagione con temperature sicuramente molto calde e tante famiglie affollano il lungomare morisano. Un po' molto caldo oggi, però si sta anche molto bene al mare, quindi insomma grande stagione. Speriamo prosegua così, visto che il tempo è stato un po' ballerino fino a qualche giorno fa. Però insomma, poi Termoli merita perché comunque ha tanti servizi, soprattutto per i bambini, per cui insomma ce la godiamo in pieno. Oggi è una bellissima giornata, leggermente ventilata, caldissima, il mare è piatto, chiarissimo, è pulitissimo. Prima giornata di mare, oggi con gli amici, dopo tante ore di studio, un po' di divertimento e di spago. Termoli è troppo bello e chi viene a Termoli rimane a Termoli. Ma per arrivare sulla costa non è stato facile per i villeggianti che dall'interno del Molise erano diretti in riva al mare. Per almeno un'ora sulla Bifernina, file incredibili al semaforo tra i bivi di Ripa Bottoni e Casa Calenda, segnalazioni interminabili di automobilisti inferociti, decine di chiamate a tele Molise. Si è interessato subito dell'emergenza anche il governatore Francesco Roberti. Necessario l'intervento degli agenti della Polizia Stradale che in sostanza hanno preso il posto dei semafori per contingentare i movimenti. Atto provvidenziale in questa domenica caratterizzata oltre che dal mordi e fuggi, anche dal primo vero esodo estivo. Iniziate con una serata al Teatro Savoia di Campobasso le celebrazioni dei 60 anni dell'autonomia della regione Molise. Momenti di confronto con giovani corregionali che hanno scelto di specializzarsi altrove e la premiazione degli ambasciatori molisani nel mondo. Poi il concerto dell'orchestra sinfonica del Molise. Dobbiamo essere orgogliosi di ciò che abbiamo raggiunto in 60 anni, ha detto il Presidente del Consiglio Quintino Pallante, ma siamo consapevoli di tutto quello che c'è ancora da fare. Sentiamo. L'Alza Bandiera Collino di Mameli, suonato dall'Orchestra Sinfonica del Molise, ha dato l'avvio alle celebrazioni che la regione ha organizzato per festeggiare il 60esimo anno di autonomia dall'Abruzzo, eventi che si terranno fino a dicembre. In sala, al Teatro Savoia di Campobasso, i familiari di coloro che promossero quell'iter e ci credettero fortemente. Gli onorevoli Giacomo Sedati, Girolamo Lapenna, Remo San Martino e poi tutte le cariche politiche della regione, militari, religiose, sindaci, comuni cittadini, tutti insieme per ricordare la strada fatta e quella ancora da fare. Intanto la conquista di 60 anni fa, ringraziamo la delegazione parlamentare, conquista non reversibile diciamo subito. E poi abbiamo accettato la sfida. Quest'anno abbiamo ben volentieri rinunciato ai formalismi, ci saranno più appuntamenti dentro i quali ci sarà la possibilità di confrontarsi. Noi sappiamo tutti quanti problemi ha la nostra regione, soprattutto sotto il profilo strutturale. E pensiamo di ribaltare questa situazione e farci garantire ciò che non siamo riusciti ad avere magari nei primi 60 anni di storia. E questa è anche la speranza dei giovani molisani che per vari motivi hanno lasciato il Molise per specializzarsi prestigiosamente altrove. Alcuni sono tornati, altri no, ma il messaggio di tutti, Marco Riunno, Raffaella Mastro Giuseppe, Sofia Marinelli, Raffaella Iantomasi e Gabriele Ianiro, è più o meno lo stesso. I giovani tornano se la regione ha da offrire qualcosa di solido, le opportunità giuste, le infrastrutture necessarie. Andarsene non è una scelta ovvia e tornare non è un atto di coraggio, hanno spiegato i giovani molisani intervistati da Micaela Marcaccio. Il Molise deve crederci e puntare su ciò che ha, questo è il parere del senatore della Porta. Dobbiamo preservare la nostra autonomia perché il Molise è una terra che ha tutto, ha il mare, ha un grande sviluppo turistico, ha dei luoghi bellissimi da visitare. Quindi intanto dobbiamo conservare e rafforzare le nostre potenzialità. In una terra che sta riscoprendo anche la gioia di accogliere tanti nuovi turisti che arrivano ogni giorno. Molto sta facendo la regione insieme al governo. Momento clou della serata è il conferimento del titolo di ambasciatori nel mondo all'ammiraglio Giacomo Shandra, Mario Marcello Rosso di Vito, chef a New York, Fabio Scacciavillani, economista, Cosmo De Nicola, imprenditore internazionale. Ma una serata dedicata all'autonomia della regione apre anche interrogativi vista l'approvazione recente della legge sull'autonomia differenziata che secondo alcuni porterà alla morte la regione Molise, teoria che l'onorevole Lancellotta respinge fortemente. L'autonomia differenziata rispetta e garantisce il LEP per ogni singola regione. Questa è la priorità assoluta e tutto ciò è avvenuto grazie a un emendamento di Fratelli d'Italia presentato al Senato. Il relatore è stato il senatore Costanzo della Porta, quindi noi abbiamo dato massima attenzione affinché vengano mantenute tutte quelle priorità e requisiti fondamentali affinché la regione Molise possa conservare, anzi implementare, assolutamente tutto quello che in qualche modo può consentire alla nostra regione di svilupparsi. Il direttore Imma Campanale e l'orchestra del Molise hanno concluso la serata con musiche scelte di Mozart, Mascagni e Rossini. Il Molise è al primo posto in Italia per la copertura vaccinale anti-influenzale 22,8% tra i cittadini di età compresa tra i 18 e i 64 anni e quanto emerge da un report dell'Istituto Superiore di Sanità per il Biennio 2022-2023 sul podio anche Valle d'Aosta e Toscana. Proclamato il lutto cittadino a Cerce Maggiore fino a domani, giorno in cui sarà celebrato il funerale di Marco Di Stasi, il ragazzo di 15 anni che ha perso la vita in un incidente stradale, l'ha messa in programma per le 10 al campo sportivo per dar modo a tutta la comunità di partecipare. Giovanni Di Toto. La festa in onore della Madonna della Libera Cerce Maggiore è attesa tutto l'anno, ma la morte di Marco, il ragazzino di 15 anni che ha perso la vita nell'incidente di due giorni fa, ha ammantato il paese di un cupo silenzio come quello che si respira tra le bancarelle già allestite nell'area del convento. Il sindaco Mascia ha proclamato il lutto cittadino, domani al campo sportivo sarà celebrato il funerale di Marco Di Stasi e i volontari hanno cominciato a lavorare per sistemare il terreno che ospiterà la messa per l'ultimo saluto al quindicenne. Con un grande spirito di solidarietà e di vicinanza alla famiglia di Marco, in tanti si sono prestati per fare questo lavoro. Nell'area food gli organizzatori hanno deciso di annullare gli eventi musicali di oggi, impossibile rinviare la festa, è stato deciso dopo l'incontro al comune di ieri sera. Non ci sarà però la musica fino alla giornata di domani. Solo in serata il cartellone degli appuntamenti riprenderà come da programma. Una tragedia che ha colpito tutti, un lutto che stordisce, hanno scritto Selma Yamul e Nicola Di Toro, vicepresidente e segretario della consulta giovanile degli studenti di Campobasso. Non solo le comunità da lui abitate, ma anche tutta la compagine studentesca, provinciale e regionale. Marco, hanno ricordato anche a nome della direttrice dell'ufficio scolastico, Maria Chimisso, era ben voluto dagli amici e dai suoi insegnanti e compagni di scuola dell'ITIS Marconi di Campobasso. Resta ancora in osservazione al Cardarelli Martina, la sorella di 20 anni che era la guida del monovolume, sotto shock e ferita, non solo per le contusioni riportate nell'incidente. Una famiglia segnata anche in passato da altre tragedie. Si ritroverà domani alle 10, insieme a tutto il paese al campo sportivo. Per l'ultimo saluto a Marco. Un centauro lievemente ferito è trasportato in ospedale. Il bilancio di un incidente tra due moto che si è verificato stamattina a Sesso Campano. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale di Isernia. Agli operatori del 118, i due motociclisti, si sarebbero toccati con le ruote in curva e avrebbero perso il controllo dei mezzi. Disaggia la circolazione sulla statale 85 in direzione Venafro. Una ragazza di 15 anni di nazionalità cieca, residente a Roma e componente di un gruppo scout, è stata colta da un malore durante un'escursione a Cività di Boiano. Il gruppo scout ha subito contattato il 118 e, vista la zona impervia, ha alertato il soccorso alpino, intervenuto immediatamente per prestare i primi soccorsi. Grazie alla tempestività dell'intervento del personale sanitario del 118 e dai volontari del soccorso alpino, la ragazza è stata stabilizzata sul posto e poi trasportata in sicurezza sulla strada dove ad attenderla c'era la postazione del 118. Progetto Pizzone II entra nel vivo la fase che entrerà alla presentazione del piano rivisitato da parte dell'Enel. All'intanto il coordinamento che si batte per l'ampliamento dell'opera ha annunciato un sit-in di protesta davanti alla sede del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Davide Gambardella. No, Pizzone II! No, Pizzone II! Sarà un'estate caldissima sul fronte della lotta a Pizzone II. La data per la presentazione del progetto da parte di Enel è fissa dal 31 agosto, ma dal coordinamento che si batte contro l'ampliamento della centrale idroelettrica sono già fissate in calendario nuove forme di protesta. Il prossimo 13 luglio ci sarà un sit-in a Pescassero lì davanti alla sede del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Quel parco che, secondo gli attivisti, oggi è minacciato da un progetto altamente invasivo fatto di tunnel e aree e cantiere che mal si conciliano con l'area di notevole pregio ambientale. Anche la seconda stesura del progetto, presentata lo scorso mese di gennaio, non ha convinto le anime che si battono nei comuni al confine con l'Abruzzo. Enel, intanto, ha chiesto una nuova sospensione del procedimento fino al 31 agosto 2024 per modificare il progetto e svolgere rilievi e indagini sul territorio. Nonostante questi accorgimenti, per il coordinamento il piano di ampliamento va bocciato, senza sé e senza ma. Il marchio Molise Eccellenze 2024 ci aiuta e sprona a continuare a lavorare sul territorio e migliorare sempre di più la qualità. Così, uno dei produttori molisani premiati, titolare di tenuta Terra Sacra di Lupara, all'indomani del riconoscimento e l'iscrizione al registro delle eccellenze molisane. 50 i riconoscimenti consegnati a Campobasso nel corso della cerimonia finale all'incubatore sociale. Il progetto punta alla selezione e all'identificazione delle aziende operanti nel settore dell'enogastronomia, del turismo e dell'artigianato che attraverso la loro attività proteggono e promuovono le eccellenze della regione. L'iniziativa è patrocinata dalla Camera di Commercio, dal Presidente del Consiglio regionale, dalla Confederazione Agricoltori, dal GAL verso il 2000, dalla Confederazione degli Artigiani. La delegazione di Isernia dell'Accademia Italiana della Cucina ha organizzato nei giorni dedicati alla Fiera dei Santi Pietro e Paolo a Isernia un convegno sul tema della cipolla bianca. Barbara Fino. Storia, cultura e gastronomia, tre elementi perfettamente abbinati se si parla delle tipicità molisane, rimanendo nel tema di questi giorni della cipolla bianca di Isernia. Tra gli eventi in programma per l'annuale Fiera dei Santi Pietro e Paolo, l'Accademia Italiana della Cucina, Delegazione di Isernia, ha riunito i maggiori conoscitori dei bulbo bianco in un incontro culturale a Palazzo San Francesco. C'è bisogno di ridare fiato a un'agricoltura italiana che è stata sempre l'agricoltura della alta qualità e del cibo italiano che ha conquistato il mondo. Per cui trovare reddito in questi settori sarà un argomento importante e l'Accademia Italiana della Cucina da questo punto di vista ha sempre sforzato i tempi e le necessità. Origini della fiera, radici culturali e tradizioni popolari, ma anche le peculiarità e le potenzialità territoriali della cipolla bianca. Cipolla unica, di gran valore, che è in grado di valorizzare in maniera assoluta il territorio, perché questa meraviglia è tale perché ha un territorio opportuno, è evocata per questo tipo di territorio per la sua coltivazione. Durante la serata la Delegazione di Isernia dell'Accademia Italiana della Cucina ha conferito alla regista Emilia Vitullo il premio Giovanni Nuvoletti per aver diretto lo spettacolo teatrale dedicato ai 70 anni della fondazione dell'Associazione, quindi per aver contribuito in modo significativo alla conoscenza e alla valorizzazione della buona tavola tradizionale. Credo molto nell'azione che loro fanno quotidianamente. Oggi credo che la riscoperta del cibo come valore culturale non è soltanto più neanche un fatto storico. Ha la necessità di aiutarci a immaginare delle prospettive di sviluppo serie, visto che il nostro Molise corre dei rischi abbastanza grossi in termini di spopolamento, quindi ci richiede uno sforzo per immaginare davvero in questo momento una possibilità di sviluppo. Trasportava immigrati clandestini su un furgone, per questo un cittadino turco è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Filignano. I militari hanno notato in una campagna adiacente a una strada provinciale tre uomini visibilmente estremati e impauriti. Gli accertamenti hanno permesso di appurare che i tre, tra cui una donna sdraiata in un furgone, tutti di nazionalità siriana, hanno pagato una ingente somma di denaro con la promessa che sarebbero stati accompagnati da Istanbul in Germania. Il conducente dell'auto articolato, un cittadino turco di 45 anni, è stato arrestato nella flagranza di reato per il trasporto di stranieri sul territorio italiano. Achille Lauro infiamma Termoli, quasi due ore di concerto all'Arena del Mare che ospita il Festival dell'Estate. L'artista apre così il tour con tutti i suoi più grandi successi. Andreana Silvio. L'Arena del Mare di Termoli stregata da Achille Lauro. Si apre così il suo tour estivo a Rave Before L'Iliade, insieme a Boss Doms come special guest. L'artista è reduce dal successo di Ragazzi Madre L'Iliade, il docufilm che racconta il suo percorso artistico e i primi dieci anni di carriera, oltre che dal successo della sua Stupidi Ragazzi, in testa alle classifiche per diverso tempo. Pantaloni e gilet di pelle, stivali e cappello, così Lauro ha fatto il suo ingresso sul palco allestito all'Arena del Mare, acclamato dal pubblico delle grandi occasioni, che lo ha accolto tra gli applausi. Non solo dal Molise, ma anche dall'Abruzzo e dal Lazio, tantissime le persone che hanno macinato chilometri per vederlo ed ascoltare le sue canzoni. Un vasto repertorio con le più celebri canzoni, da 16 marzo, a me ne frego, passando per Selavie, Marilu, Solo Noi, Roll Royce, Bam Bam Twist. Un abbraccio tra Lauro e il suo pubblico, che il cantante ha più volte ringraziato. Grazie Termoli, grazie per la bellissima accoglienza. È stato bravissimo, è il mio cantante preferito da anni. Molto bello, le canzoni ci vedevano che era molto studiata, io che le lauro, è molto bello, bellissime canzoni. Mi dispiace perché non l'hanno fatta, prego le panna e il champagne, però mi è piaciuta anche Pittura Blu e poi Ros e Lois. Ros e Lois. Sì, sono quella che gli ha lanciato il reggiseno, lo amo, lo adoro e lo inseguiremo dappertutto, anche a Roma verremo. Siamo venuti da casa sua e andremo anche a casa sua. Siamo venuti da città e a tutti voi gli armari, grazie di cuore. Ed ora andiamo all'archivio di stato di Isernia, dove fino all'8 luglio la vita del musicista e compositore Isernino Vincenzo Viti resterà in mostra con documenti e foto conservate che raccontano di un personaggio unico nel suo genere. Scopriamo. Commediografo, musicista, medico e giornalista, l'archivio di stato di Isernia ricorda con una mostra il maestro Vincenzo Viti, un'inedita raccolta storica di documenti che ricostruisce la prestigiosa carriera musicale del compositore Isernino, autore, tra le tante, della canzone La curacchiera, tradotto la ragazza del codacchio, uno dei rioni più popolari di Isernia. Ci ha lasciato un materiale immenso, ha prodotto di tutto. Noi a Isernia lo conosciamo soprattutto come commediografo per il teatro di Vincenzo Viti, però quel che viene fuori da questa mostra è che lui è stato impegnato in tantissimi ambiti culturali. Ha prodotto almeno una settantina di opere fra romanze, canzoni dialettali, in napoletano, in Isernino, prodotto canti in italiano, scriveva versi, scriveva la musica. L'iniziativa culturale intende valorizzare le fondi archivistiche ed evidenziare il legame dell'archivio di Stato con il territorio, narrando attraverso i documenti ritrovati la storia di un poliedrico Isernino. Noi abbiamo cercato di ricostruire tutti gli aspetti della sua vita, approfondendo però poi l'aspetto musicale. Tra l'altro lui come musicista scrive versi e musiche e soprattutto i versi li scrive indifferentemente in italiano, in napoletano, in dialetto isernino ed è molto attivo soprattutto sulla scena napoletana con la canzone napoletana. La mostra su Vincenzo Viti resterà aperta fino all'8 luglio e sarà visitabile il lunedì, mercoledì e venerdì negli orari mattutini e il martedì e il giovedì anche nel pomeriggio. Sesta edizione all'Ucito per il Premio Nazionale di Poesia Paese dell'amicizia poetica l'edizione di quest'anno, celebrata in piazza Municipio è andata la poetessa originaria di Battipaglia nel Salernitano, Laura Russo con versi dedicati alle donne vittime di violenza. Stefano Ricci Una poesia dedicata al silenzioso dolore di tante troppe donne vittime della violenza di chi dovrebbe amarle più di ogni cosa è andata a Laura Russo la sesta edizione del Premio Nazionale che ha reso l'Ucito Paese dell'amicizia poetica il medico napoletano in pensione Vincenzo Galluzzi è il promotore del premio. Sono napoletano ho sposato una molisana e mi sono innamorato del paese ho preso spunto da questa festa Mai delle Defens per organizzare un premio di poesie premio nazionale di poesie Mai delle Defens questo è nato nel 2019 ora siamo alla sesta edizione la bellezza di questo paese e del premio è che noi abbiamo trasformato il paese l'Ucito ora si appella col nome l'Ucito Paese dell'amicizia poetica per le strade del paese ci sono delle mattonelle in ceramica vicino ai muri attaccati per sempre delle poesie dei poeti che sono venuti all'Ucito da tutta Italia e in più abbiamo creato una piazzetta della poesia dove ci sono conservate le poesie prime classificate e c'è l'albo d'oro dei poete amici di Lucito che sono venuti almeno una volta all'Ucito ci sono delle piastrelle 1010 con nome e cognome di tutti questi poeti e sono più di 100 le piastrelle in questa piazza vane suppliche le mie gli occhi tanto grandi erano diventati non d'amore erano colmi ma di crudele sua ferocia versi quelli che hanno vinto che hanno accompagnato l'inaugurazione di una panchina rossa ormai ovunque simbolo di un amore malato e violento un premio che quest'anno è diventato anche di poesia sociale che da sei anni rende Lucito un borgo noto in ambito culturale per la sua sensibilità poetica ed è tutto per questa edizione del nostro telegiornale grazie per averci seguito buon pomeriggio buona domenica grazie per averci seguito